Io ho dedicato questo pezzo alla RAI, che ricordiamo è un servizio pubblico, quindi dovrebbe dare un'informazione trasparente e veritiera, io ho dedicato questo pezzo che si intitola VIVA LA RAI! La verità è un po' eccessiva, comunque lei è qui con me ed è una diva, a la realtà delle visibili si sostituisce, a la realtà è genetiva, Ma la musica è adesiva, la menzogna sulla scienza RAI, non passa a scrivere, a scrivere VIVA LA RAI, per quello che non sai, VIVA LA RAI, che non mette mai, VIVA LA RAI, quel trombonciucubai, VIVA LA RAI, se sono guai Ciò mi avessi uguale a queste, ciò mi avessi che fanno i registi, ciò mi avessi con un milione, ma che fanno fare in pensione?